Ciao ragazzi, un saluto dall'interista tedesco della Baviera. Il calcio moderno è malato, è impazzito, è veramente incredibile. Ormai basta che un giocatore fa una, una stagione di un alto livello e vale subito 50, 60, 80 milioni di euro. Poi non parliamo dei talenti, ormai i talenti, basta che sono belli giovani, hanno meno di 20 anni e se sono talenti valgono subito 100 milioni di euro. È veramente qualcosa di assurdo. Manchester City, Paris Saint Germain, le cifre che spendono non hanno veramente, non hanno più niente a fare con la realtà ragazzi. Viviamo veramente calcisticamente in un mondo assurdo, in un mondo malato. E adesso siamo arrivati a un punto che anche quelli, anche quelli che avevano sempre il naso alto e dicevano sempre Noi non faremo mai parte di tutto questo. Il calcio è malato. Finché noi lavoriamo nel calcio, finché noi siamo presidenti, siamo manager, non so che cosa, cose di questo tipo qui, trasferimenti per esempio di 100 milioni di euro per un singolo giocatore, non accadranno. Non ci saranno con noi. E adesso è arrivato il momento, nella mia opinione, storico, che anche questi qui, questi del Bayern Monaco, hanno cambiato completamente la loro politica. Il Bayern Monaco, che da anni ragazzi, da anni ci hanno un fatturato assurdo, un fatturato veramente altissimo. Nella loro storia il trasferimento più costoso era Tolisso. Tolisso per 40 milioni di euro che sono spiccioli. Sono veramente spiccioli per tutti questi club che hanno proprietari, che hanno il petrolio, lo sapete ragazzi. Sono spiccioli. Il Bayern Monaco, che fino adesso il trasferimento più costoso era 40 milioni di euro, comprano, hanno comprato Lucas Hernandez. Nella mia opinione, un giocatore, non direi mediocre, un giocatore forte, sì, ma un giocatore che assolutamente non vale 80 milioni di euro. Neanche nel calcio moderno, dove lo sappiamo, i prezzi sono fuori controllo, ma neanche in questo calcio moderno qui vale 80 milioni di euro. Questa è la mia opinione. Vi spiegherò anche il perché. Il Bayern Monaco lo prende e paga questa cifra assurda. Nella mia opinione, non solo per prendere questo giocatore qui, ma anche e soprattutto per mandare un segnale. Perché c'era tanta pressione sul management del Bayern Monaco, su Uli Hoene, sul Karl-Heinz Hohenig, che dicevano sempre noi queste cose non le faremo mai. Il Bayern Monaco, che hanno da anni, erano i campioni del mondo, nella mia opinione, nel fare trasferimenti razionali, trasferimenti veramente molto molto intelligenti. Adesso hanno preso Goretzka a costo zero, avevano preso Lewandowski a costo zero. Rubavano spesso giocatori forti alla concorrenza, che gli scadevano i contratti, ma anche nel passato avevano preso, non so, Robben, che al Real Madrid non andava bene per 25 milioni di euro e poi per tantissimi anni ha giocato alla grande al Bayern Monaco. Stessa cosa con Manuel Noia. Adesso Rames Rodriguez, che già a livello di marketing è veramente un'assurdità in Colombia, è un eroe, ragazzi l'hanno preso mi pare per 10 milioni di euro in prestito. Cioè facevano sempre questi trasferimenti così molto molto intelligenti, però adesso la pressione diventava sempre 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 più grande, soprattutto dai tifosi. Gli tifosi sono tutti arrabbiati e dicevano come può essere, tutti fanno questi trasferimenti assurdi e noi, che economicamente forse o sicuramente siamo il club più sano del mondo, perché non lo facciamo? E poi è successo quello che nel Bayern Monaco non può mai succedere, per due o tre mesi adesso il Borussia Dortmund è stato prima del Bayern Monaco, c'era la possibilità che il Borussia Dortmund poteva vincere la Bundesliga, mamma mia! E perciò sono tutti impazziti, tutte le critiche contro il Bayern Monaco e Uli Hoeneß, Kalenz Romenig, ormai sono di nuovo primi, vinceranno la Bundesliga sicuramente, perché la Bundesliga fa cagare, è molto noiosa. Comunque adesso Uli Hoeneß ha detto ufficialmente cambiamo strategia, cambiamo politica, adesso anche il Bayern Monaco entra in questo mercato pazzo, in questo mercato malato, 80 milioni di euro per Hernandez, adesso si parla anche di Kai Havertz ragazzi, un giocatore, sì, un grande talento, 19 anni, ma ha giocato adesso un paio di mesi su un ottimo livello sicuramente con il Bayern Leverkusen e già il Bayern Monaco offre mi pare 75 milioni di euro, ma veramente un'assurdità ragazzi, una assurdità! E Leverkusen dice, eh non basta, vogliamo 100 milioni di euro, cioè il Bayern Monaco ufficialmente è entrato in questo mondo malato. E questo mi rende un po' triste, perché questo significa veramente che adesso anche gli ultimi, anche gli ultimi ribelli che giocavano sempre su altissimi livelli come il Bayern Monaco, lo sapete, non li ho mai tifati, assolutamente no, simpatizzo con il Borussia Dortmund, ma anche se anche questi qui ormai fanno parte di questo gioco malato, significa che dobbiamo accettare la realtà, questo è la realtà. Ragazzi, Lucas Hernandez, parliamo un attimino di questo giocatore qui, nella mia opinione assolutamente non vale 80 milioni di euro, sì, un giocatore flessibile, questo è la cosa positiva di lui, può fare il terzino sinistro, il Bayern Monaco lì c'ha solo David Alaba, che in fase offensiva è molto molto forte, in fase difensiva un pochino meno, cioè però se a lui viene un infortunio o qualcosa, c'hanno dei problemi su quella posizione lì, perciò hanno fatto bene di prendere un giocatore flessibile, però ragazzi come terzino non mi piace, ho letto lì le statistiche, qui ragazzi in 110 partite ha fatto un gol e 4 assist, veramente poca poca roba, solo 30% dei suoi cross arrivano, cross veramente molto molto imprecisi, non mi piace come terzino sinistro, assolutamente no, perciò lo vedo più come un difensore centrale ragazzi, ma anche lì è un metro 83 grande o diciamo piccolo, perché per un difensore centrale è abbastanza piccolo, perciò anche lì non mi convince tanto nella difesa 4, forse mi piacerebbe più vederlo nella difesa 3, che Kovac sicuramente lo può fare, l'ha fatto anche prima con il Eintracht Frankfurt, anche lì giocava spesso con la difesa 3, lì andrebbe forse bene ragazzi insieme, non so, con un Boateng, con un Sül che sono più grandi più di 1,90, non so adesso quanto esattamente, ma sono veramente molto molto alti, perché ragazzi anche poi anche in costruzione non mi piace, assolutamente no, qui c'è un altro dato, solo 81% dei suoi passaggi arrivano e fa quasi solo passaggi di sicurezza, anche questo per un difensore centrale non è un dato ottimo, assolutamente no, è poca roba, è veramente poca roba, perciò con la testa è piccolino, in costruzione non mi piace, come terzino sinistro, ok, uno che gli dà sicurezza in fase difensiva, ma spinge abbastanza poco, fa pochissimi grossi, i grossi che fa li fa veramente mali, fa pochissimi assist, anche lì non mi convince, la cosa positiva è che è molto veloce, assolutamente sì, il Bayern Monaco ha un grande problema nei contropiedi, specialmente con Hummels, ragazzi che non so cosa è successo, guardate, se Valero o Gagliadini sono lenti, lui non so che cosa, mi sembra un Gagliadini con una gamba rotta, è veramente lentissimo, Hummels è diventato lentissimo, lo era già sempre, però aveva sempre un grande gioco posizionale, adesso non c'ha neanche più questo, e spesso il Bayern Monaco ha preso tanti tanti gol per colpa sua, e penso proprio per questo motivo, loro vogliono avere un difensore centrale tanto aggressivo, con un grande timing, marcatura fortissimo, Lucas Hernandez è un goliero, tipico giocatore dell'Atletico Madrid, uno che si butta in ogni pallone, scivolate, un giocatore anche un po' sporco, che può anche fare qualche fallo brutto, un vero goliero ragazzi, che ha un bellissimo timing, si vede proprio come analizza i suoi attaccanti, che giocano contro di lui, e poi entra nei duelli con un timing veramente perfetto, però ragazzi ripeto, 80 milioni di euro per un difensore centrale basso, un difensore centrale nel calcio moderno, che è molto molto limitato in costruzione, uno flessibile va bene sì, però uno che non mi convince come terzino, nella mia opinione non vale 80 milioni di euro, assolutamente no, nella mia opinione il Bahia Monaco l'ha fatto sì, perché hanno bisogno di un giocatore rapido lì dietro nella difesa, ma l'hanno fatto anche per mandare un segnale a tutti, il Bahia Monaco entra in questo gioco malato, ragazzi scrivete la vostra opinione nei commenti, e ci vediamo in un prossimo video, sempre e solo Forza Inter, perché ho fatto questo video? Ho fatto questo video perché in tanti mi avete chiesto, avete detto, ah tu sei della Baviera, il Bahia Monaco adesso ha fatto questo trasferimento assurdo, faccio un video, prima avevi sempre detto che il Bahia Monaco queste cose non li facevano, anche i biglietti per esempio sono prezzi abbastanza abbordabili, Oli Hönes ha sempre detto che non gli piace questo calcio moderno, adesso cambiano tutto, dici la tua opinione, spero che lo apprezzate, se dite non vi interessano un cazzo questi tipo di video, fai solo esclusivamente video sull'Inter, vediamo cosa faremo nel futuro ragazzi, però nella mia opinione qualche volta è anche bello di fare qualche video un po' diverso, di raccontarvi anche un po' delle altre cose, di altre squadre, ovviamente sempre prima di tutto viene l'Inter, però qualche volta penso che può anche essere interessante fare un'altra tipologia di video. Allora ragazzi ci vediamo nel prossimo video, ciao, un abbraccio a tutti, buon inizio per questo weekend, seguitemi su Instagram, molto importante, seguitemi su Instagram e ci vediamo presto, ciao ragazzi vi voglio bene!